Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Yari Carrisi, figlio di Romina Power, è meno noto rispetto alle sue sorelle poiché ha sempre mantenuto un profilo basso, apparendo molto raramente in pubblico. Nonostante questa discrezione, il suo fascino è amplificato dalla sua natura introversa e dal legame profondo con la spiritualità ereditato da sua madre Romina. L'uomo è spesso oggetto di critiche per il suo comportamento spirituale, con alcuni che lo deridono per il suo essere un santone. Durante un'apparizione nel programma di Caterina Balivo, il cantante ha portato una ventata di spiritualità parlando del suo passato, presente e futuro. Ha condiviso dettagli sulla sua famiglia, i suoi progetti e le sue fonti di ispirazione, tra cui la passione per lo yoga e la meditazione. Durante l'intervista, Yara ha compiuto il gesto inusuale di togliersi le scarpe, spiegando che faceva parte della sua filosofia di vita. La sua partecipazione alla trasmissione è stata un'occasione per mostrare una personalità complessa che va oltre le apparenze mediatiche. Questo episodio televisivo ha suscitato grande interesse, offrendo un'opportunità unica di comprendere meglio chi è veramente Yara Carrisi. Yari continua a distinguersi dalle sorelle per il suo stile di vita e le sue convinzioni spirituali, rimanendo una figura enigmatica e affascinante. Il suo legame con la spiritualità e la meditazione rappresenta una componente essenziale della sua identità, influenzata profondamente da Vomina Kaur. E tu cosa ne pensi di Yara Carrisi? Faccelo sapere nei commenti.